ciao a tutti i miei cari followers siamo a colomello per girare ovviamente e adesso sto facendo un girettino di riscaldamento e basta e oggi piove ha dirotto per tutto ieri e spiovigina anche adesso quindi credo che sarà molto infangato ma lo credo solo e quindi ci schianteremo anche oggi andiamo a raccogli dei funghi oh madonna puttana troia che volo ho rotto il telescopico ciao 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 hai capito dove sono caduto? 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 hai capito dove sono caduto?